Dopo la fine del lungo matrimonio con Albano c'era stato un fidanzato Questo rapporto è finito dopo alcuni anni, oggi con chi sta Romina Power? Romina Power è sempre al centro delle attenzioni di tanti Questo succede perché lei è un personaggio pubblico molto amato, grazie alla positività ed alla dolcezza che sa ispirare Basta guardare i suoi tanti post su social, e su Instagram in particolare Il profilo di Romina Power è pieno di contenuti che trasmettono positività, speranza, tante volte anche commozione Questo avviene nel contemplare tanti pensieri che la ex moglie di Albano ha nei confronti di sua figlia, Ilenia Carisi Di quest'ultima, che era la primogenita di Albano e di Romina Power, non si è saputo più niente da ormai 30 anni Ma la cantante statunitense, da decenni italiana di adozione, non ha mai perso la speranza di rivedere la sua amata Ilenia Sembra che quanto successo ai tempi rappresenti uno dei motivi, se non il principale motivo, per il quale poi Albano e Romina Power scelsero di dividersi e di andare ognuno per la loro strada Tra loro i rapporti sono comunque rimasti amichevoli, anche se tra lei e Loredana Lecciso non corre invece affatto buon sangue Di recente si è tornate a parlare di un altro uomo nella vita di Romina Power, con il quale lei pare abbia fatto coppia fissa per alcuni anni Lui era un importante individuo dell'industria Hollywood ma poi tutto quanto è finito male, a quanto pare Ebbene, sembra che dopo questa relazione sentimentale naufragata in un nulla di fatto, Romina Power abbia preso la decisione di restare da sola Single, in totale libertà e felice così, con se stessa e con la possibilità di poter viaggiare ovunque quando le pare e con chi le pare Dopo 29 anni di matrimonio con Albano ed un'altra relazione senza alcuno sbocco, l'esigenza di essere libera ha preso evidentemente il sopravvento Per alcuni la libertà è fondamentale, per altri diventa una piacevole riscoperta dopo anni passati ad essere vincolati in amore Può darsi che sia questo il caso di Romina Power, la quale adesso non ha occhi che per i suoi quattro nipotini Ovvero i tre nati dalla figlia Christelle Carrisi e l'ultimo arrivato, Axel Lupo Quest'ultimo ha come mamma Romina Junior ed è nato nello scorso mese di gennaio E poi c'è uno spazio importante che riveste anche Harry Marco nella vita di Romina Power Lui è il suo unico figlio maschio, con il quale spesso si esibisce su tutti i palchi d'Italia ed anche all'estero E con il quale c'è una forte affinità adatta dal loro comune amore per la natura, per l'ambiente e per le culture che non appartengono ai paesi industrializzati Non c'è nessun altro di più importante delle persone qui citate, e con loro Romina Power è felice In passato però si era parlato di un tradimento di lei ad Albano con un noto attore In passato per la natura, per la natura, per la natura, per la natura